Il bastone della... No ancora, sta buono! Il sole ci fa male. Ciao Yuki, vai a me la qualcuno. Ta-da, ricolosone, eh, magni! Buon appetito! Guten Appetit! Hola! No! Sto bene o no? Mi sono fatti i capelli come te. Non ti piace. Non ti piaccio. Grazie, ma a te. Tommy, oggi dobbiamo ringraziare i due ragazzi del servizio campo che si sono allenati con noi. Ciao ragazzi, da dove arrivate? Quella è la vostra polisportiva, eh? Yuki, da dove arrivi? Da Prato Centenario, da Zaka, ma... Vai, vai, vai su, subito, vai, così! Bravo! Il nostro amico giapponese è affaticato, eh? Sei stanco oggi, eh? Ragazzi, Yuki, l'imperatore del Giappone, ha ascoltato un po' di canzoni che gli ho sottoposto di Sanremo e le sue tre preferite. Quelle che volevo io, certo, certo. Quelle che volevo io le ho fatto sentire. E' un po' taroccato, ma ragazzi si sa che a Zecco molto spesso. Quali sono le più belle secondo te? Elisa, D'Argen, D'Amico e Giuseppe. Perché sono tre, D'Argen, D'Amico è uno. E Giuseppe. Adesso domani le ascoltiamo di nuovo. Saluta io che gli amici di Sanremo.